Passiamo alla sala da pranzo, allora, che poi magari congiungerò anche, ci metterò un'altra porta qui per il bagno, allora la sala da pranzo, fatemi conoscere, essendo che si entra per di qua e ci deve stare una porta qui, magari la mettiamo subito così, mi ricordo che ci deve essere una porta, la mettiamo qui, ok, allora intanto direi di mettere una finestra, abbastanza carina, però questa è aperta, no? Una finestra, oddio, mettiamo così, e qua, allora come tavolo, stavo pensando magari di attaccarlo qua alla finestra, quindi potremmo, no? Tiro giù un attimo i muri, mi sembra un po' piccolo, cioè volevo un tavolo abbastanza grande, ecco tipo questo, questo non sarebbe male, non so perché mi spira il tavolo grande, mettiamo un po' di illuminazione perché voglio vedere come sta il colore, quindi andiamo sempre a riprendere il coso, oppure mettiamo queste lampade, no? No dai, mettiamo queste lampade, dai, allora il colore è orribile, cioè non che sia brutto, però non sta bene con la finestra, dai più su un marrone scuro, però questo è più scuro, più su questo magari, poi mettiamo le sedie, allora le sedie le metterei tipo un po' classiche, si dice classiche, mi pare di sì, oh queste sono molto carine, anche come colore ci stanno, ne metterei due per ora, visto che sono in due, poi metterei ovviamente qualche pianta, perché io non posso vivere senza piante, cioè, io in qualsiasi casa che faccio mette le piante, ma queste hanno senso, tipo due così, avrebbe senso, non lo so, mi sembra di essere un po' in campagna, tipo, ma neanche in campagna, però sembra di essere un po', cioè, come mangiare mezzo all'erba, no? Un po' mi sembra un po' povera come stanza, questo, mi sembra che manchi qualcosa, non lo so, magari hanno impressioni, beh, sicuramente molto vuoto adesso, possiamo guardare magari queste piante da muro, però non saprei, cioè, ho proprio un vuoto, e non so che cosa mettere in questa stanza, cioè, che cosa potrei mettere, beh, sicuramente la guccia, la guccia, ho dimenticato di mettere, che loro hanno un gatto, quindi dobbiamo mettere la ciotola, e mettiamo questa vagella, che è molto carina, e qua non c'è più spazio, quindi visto che qua non sappiamo cosa metterci, io direi che metterci la ciotola qua di fianco, ok? Ok, qua potremmo mettere qualche quadro, qualche quadro, anche abbastanza grande, tipo questi sono molto grandi, tipo, ok, 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 ma in realtà possiamo anche guardarne qualcuno lì ancora più grande, tipo questi, ok, vediamo, questo, si, oh, si, illumina un po' la stanza, anche, ehm, si, cosa altro potremmo mettere, vediamo, c'è proprio il lozzo, non so che cosa mettere in questa stanza, c'è anche cosa si mette in una sala da pranzo, perché io per esempio ho cucina e sala da pranzo insieme, quindi non ho questo problema, ecco, cioè, nella mia casa intendo. E allora, un cammino, potremmo mettere un cammino, c'è un cammino più buttato, ma che carino, no vabbè, se ne mettiamo questo qua, però mi fico che tutto così non mi ispira tantissimo da me la metto, magari ecco così, e questa la spostiamo qui, però a questo punto io sposterei questa qua, e tutto il resto lo sposterei un pochino, non lo so perché ma mi ispira di più di qua, quindi di conseguenza metterei la luce qui, almeno c'è un po' più di spazio, ecco, e, ok, dai però non è male come essere la pranzo che è un po' vuoto, è un po' vuoto, ma davvero no, non mi viene veramente niente che potrei mettere, se avete qualche idea, magari, ecco, io dimentico sempre i tappeti, i tappeti che nella mia casa comunque ci sono, io non so perché, poi in The Sims non li metto, ho questo rifiuto per i tappeti di The Sims che è veramente, questo è molto carino, ma il colore non è proprio il tocco, troppo grande, no, 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 però magari se si cambia un attimo il colore, questo non è troppo, cioè non è brutto, il problema è che se fosse un po' più grande sarebbe meglio perché l'orecchia coprisse almeno, questo com'è, è che non mi piace il colore, quindi adesso andiamo a assaggiare un colore diverso, così potremmo metterlo, è abbastanza carino, dai, questo tappetto potremmo lasciarlo così, no, no, meglio così, per quanto riguarda i tappeti qua, non so, non so se ce li vedo, non lo so, io lascerei stare, va bene il tappetto là, e magari mettiamo un quadro qua perché mi sembra un po' vuoto, un quadro, un quadro, che potrebbe essere appunto quelli che non abbiamo messo prima di questi colore, questo è molto carino e potrebbe ravvivare un po' la stanza, ok, dai per ora io lascio così la sala da pranzo, nel bagno, allora, il bagno, allora, andiamo subito a vedere le finestre, così, abbiamo già cosa mettere così, troppo piccola, potevo mettere questo in gioco a pranzo, vabbè, ce l'ho che l'ho, non fa niente, il bagno è sempre un po' complicato scegliere le finestre, questa non so, qualcosa che poi ci posso mettere sopra una tenda che ci stia bene, insomma, oddio no, assolutamente no, così, il bagno è sempre un trauma scegliere le finestre utilizzare, perché alcune sono troppo piccole, altre sono troppo grandi, non si sa mai che cosa, perché comunque il bagno è un posto in cui non ci dovrebbe essere troppo luce, cioè, sì, però non dovrebbe essere troppo visibile al pubblico, ecco, però queste non sono male come finestre, io quasi quasi la farei così, e niente, iniziamo a scegliere allora, e direi un vatero un po' normale, tipo questo, non è male come sul marroncino, ovviamente, perché la casa è tutta sul marroncino, che cosa ci potremmo fare, cioè, nel senso, ci facciamo una duccia, o, io direi duccia, al massimo la rosca possiamo metterla di sopra, la duccia, allora, la facciamo, andiamo, un po' così, non so perché mi ispira, non l'ho mai usato tra l'altro questo, quindi c'è sempre la prima volta, facciamo, facciamo, andiamo, così, dai, penso che va bene, ok, però c'è lo solo blu, c'è, c'è, c'è di quelli che intende voi, ok, poi, come il lavandino, potremmo, anche questo non è male, però dobbiamo metterlo qua, perché se no, in traccia, ok, con uno specchio, eh, questo è super carino, però direi di no, lo specchio così, tipo,